I saggi archeologici in piazza Duomo hanno riportato in luce una piccolissima parte dell'antica pavimentazione ma anche frammenti di vasellame medievale, strati di ghiaia e ossa di animali che confermano l'antica vocazione del luogo al mercato. Dopo Pasqua sono iniziati e sono ancora in corso i saggi affidati dal comune prima di aprire il cantiere per i lavori di riqualificazione e restyling come richiesto dalla sovrintendenza. I saggi interessano diverse porzioni di piazza. Ad occuparsi della procedura di verifica preventiva di interesse archeologico per 15.000 euro è la società cooperativa LIMS. Gli elementi trovati non fanno pensare ad una prima analisi a qualcosa di così significativo da poter bloccare i lavori ma una volta terminati i sondaggi sarà necessario rimettere l'azione alla sovrintendenza. Abbiamo ritrovato delle ossa di animali che probabilmente si cibavano dei resti dell'antico mercato, alcuni frammenti di anfore e del vecchio sottolato, dei pezzettini di vecchio sottolato che probabilmente venivano usati per evitare che le persone si sporcassero col fango mentre accedevano al mercato. Ora io non sono un archeologo, non so se questi sono materiali di valenza storica o meno, faremo una relazione alla sovrintendenza che poi ci dovrà emanare il parere. Il progetto di riqualificazione presentato è da quasi 9 milioni di euro, ridarà nuova vita alla piazza la cui pavimentazione oggi è distrutta praticamente. Piazza Duomo ha da sempre ospitato il mercato più antico d'Italia. Il Comune spera di far partire i lavori dopo l'estate per far lavorare in serenità i commercianti dopo il lungo stop a causa della pandemia e i lavori potrebbero terminare anche prima rispetto alla tabella di marcia. Cercheremo di recuperare questi mesi in cui posticiperemo i lavori proprio per consentire ai commercianti di poter lavorare durante l'estate, cercheremo di compensarli con maggiori turni. Vediamo se la cosa non costerà una cifra esorbitante, punteremo se la ditta praticamente invece di una miglioria darà la possibilità di fare dei turni doppi, sicuramente potrebbe essere un elemento da includere nel capitolato d'appalto e quindi poi speriamo nell'arco di sei mesi, sei, otto mesi di riavere la piazza.